Prima di continuare però vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare like, di attivare la campanellina, di commentare e di condividere il video con tutti i vostri amici E nel negozio oggetti di Fortnite sul supporto a un creatore, AleMilan88, tutto grande, tutto piccolo, l'importante è che sia tutto attaccato Accettate, ogni 14 giorni scade quindi dovete rinserirlo, grazie a tutti quelli che lo faranno E ora, buona visione Allora ragazzi, parliamo un po' di quello che è successo in questi giorni Perché due giorni fa, se non sbaglio, oggi vedrete il video di lunedì Purtroppo, regà, lo vedrete un po' tardi con l'orario, cioè lo vedrete verso le 6 di pomeriggio Purtroppo perché ho avuto dei problemi nel registrare appunto questo video e nel pubblicarlo Comunque, più o meno tra il sabato, tra il sabato sera e domenica Fortnite ha rilasciato dei teaser, dei trailer sulla prossima stagione Ve l'ho anche fatti vedere, tra l'altro, in alcuni video che ho pubblicato Ve l'ho fatti vedere Per chi non l'avevo se vista andatela a vedere Comunque, praticamente vi riassumo cosa si vede in questo trailer Si vedono delle persone, ci sono tre trailer Tre persone, in un trailer, nel primo trailer c'è una persona che si spalma una crema sulla mano E poi quella crema, che è di un colore, non capisco che colore è Però poi, la crema praticamente li va su tutto il braccio E la crema diventa di colore cromo Ok? Quindi la tipa che ha la crema in mano diventa tutta di colore cromo E alla fine del trailer appare una scritta, con scritto Paradise Paradise, che è Paradise Che potrebbe, che in teoria, ora È così, eh, mo non lo so se hanno cambiato la traduzione mentre sto registrando Sarebbe Paradiso, no? Ok? La traduzione in italiano è Paradiso, ok? Quindi la prossima stagione si chiamerà Paradiso In inglese è Paradise, in italiano, mo Vediamo come lo traducono Perché nel capitolo 1 c'era una città che si chiamava Paradise Palms La traduzione non era Paradiso Quindi, boh, vediamo come la traducono in teoria Paradiso Comunque Quindi in questi tre teaser, in poche parole La cosa che va di più, che si vede di più È il colore cromo Colore cromo Che è stato usato Per la Guglia La Guglia Quella città che Era presente nella season 6 del capitolo 2 Che conteneva il punto 0 Ve lo ricorderete tutti, dai? Era di colore cromo Era fatta col cromo, ok? Tra l'altro il cromo è Sì, è un metallo Ma che tra l'altro c'è anche tipo nel cibo E altre cose, ok? Non il metallo, è nel cibo È il cromo, ok? Tra l'altro Sto leggendo tutte le notizie Adesso insieme a voi I funghi, ok? I funghi quelli nella mappa Di Fortnite I funghi quelli blu che ci sono Tipo nella nuova zona Quindi Boschetto e cascate Contengono il cromo, ok? I funghi contengono il cromo I funghi Nella vita reale, eh? Anche Contengono il cromo Quindi probabilmente sono loro Che stanno infettando la mappa Quindi I funghi nella mappa Contengono appunto il cromo Che sta infettando Tutta la mappa Questo È interessante Tra l'altro I zombie cromatici Quindi Di colore cromo Esistevano già su Salva il mondo Da tanto tempo Quindi questo è anche Molto molto interessante Poi Un'altra cosa che Ho visto Che praticamente Questa raga È molto importante Anche questa cosa qui Perché Nei vari trailer Cioè Nei tre vari trailer Ci sono tre persone Diverse Una di queste È una donna Bionda Con Una Una bandana In testa rosa E questa Sembra proprio Una skin Che era nei Falli di gioco Quindi Probabilmente La vedremo nel pass Ora raga Mancano pochi giorni Alla fine della stagione Mancano Oggi è il 12 Sabato È fine season Domenica arriva la prossima season Manca veramente poco Mancano sei giorni Se non sbaglio Vi ricordo che vi aspetto In live Venerdì È sabato È domenica Per goderci Gli ultimi momenti Di questa season E per poi Goderci I primi momenti Della prossima stagione Insieme Tra l'altro Voglio solo un attimo Interrompere una cosa Non so se ci farò Un video apposta Però Sono contento Per Croatomys Che ha avuto Il suo bundle Nello shop di Fortnite Quindi Grande Croatomys E vabbè Tornando Alla prossima stagione La prossima stagione Sembra incentrata Sul cromo Ok Sembra incentrata Sul cromo Ora È da capire Come la collegheranno Perché Sappiamo che Nella prossima stagione Abbiamo Oltre al fatto Che abbiamo in ballo Già un sacco di cose Ovvero L'ultima realtà L'ordine immaginario La slone Geno I7 Il testimone floreale Appunto Tutti gli alberi della realtà Quindi Veramente un sacco di roba Forse mi sono dimenticato Anche qualcosa Comunque un sacco di roba Quindi Buttare in mezzo Anche il cromo È Vediamo Vediamo un attimo E abbiamo anche Halloween Nella prossima stagione Quindi vediamo un po' Cosa faranno Però Voglio anche ricordarvi Che nella season 6 Del capitolo 2 Il Cioè La cosa Importante In quella stagione Era proprio Quando ho tirato una botta Al microfono Era proprio Eh La guglia Che conteniva Il punto 0 In quella season Infatti La mappa È tornata Primordiale È diventata primordiale Per colpa appunto Del punto 0 Ok Quindi Non vorrei Siccome il punto 0 In quella season Prima che Arrivò Arrivò la guglia Eh Prima che arrivasse La guglia Era Eh Era praticamente Era spezzato Stava andando in collasso La realtà Anche adesso Il punto 0 È È libero L'ordine immaginario Non lo sta più controllando Forse lo sta controllando Il testimone Floreale Quindi potrebbero esserci Dei collegamenti Anche perché Nella season 6 Gli stili bonus Quindi dopo il livello 100 Erano C'erano delle skin Che erano Color cromo Ok Il colore Lo stile Secondario Chiamiamolo così Era cromo Era il color cromo Quindi Ora È da vedere un po' Cosa faranno Fatemi sapere Che cosa ne pensate Ora Non lo so Mi sto Aipando un sacco Perché quei tre teaser Sono usciti tutti e tre In una botta sola Quando io li ho visti Io Dicevo Ma Sono vere ste cose O sono dei Dei fotomontaggi Dei Non capivo Non capivo cos'erano Perché sono usciti tutti e tre Di fila Ne ho visto uno Subito Subito dopo un altro Subito dopo ancora l'altro Quindi non capivo E poi Dicevo Ma saranno cose No Sono veri ovviamente Se no Non eravamo qua a parlarne Le ha pubblicati Fortnet Tra sabato e domenica Ora non mi ricordo Tra sabato sera Sabato pomeriggio E domenica Ma Vediamo Vediamo un po' Cosa faranno Il cromo Ci entrerà sicuramente Nella prossima stagione Però Secondo voi Perché la prossima season Si chiamerà Paradise Quindi tradotto In teoria paradiso In teoria Quindi perché secondo voi Boh Io non lo so Sinceramente Cioè che Non mi so dare Un Un perché Di questo E tra l'altro Voglio che tutti quei Bambini Scusate Apro un attimo la parentesi Poi la chiudo subito Tutti quei Quelle persone Che su tiktok Raga Vi scol Ve lo consiglio A tutti Voi Che state guardando questo video Non Prendete Informazioni Da tiktok Ok Veramente Basta Perché io Apro tiktok E da un mese Che apri tiktok E vedi Tutti che parlano Della prossima stagione Della season Trueback Vi ricordate che Non ho parlato anch'io Quando era uscita Quella teoria Della possibile Season Appunto La prossima season 4 A tema Passato Ritorno al passato Ma era una teoria Vi ricordo E tutti Su tiktok Ne parlano Come se fosse Una cosa Ufficiale Confermata Al 100% Ora che sappiamo Che invece La prossima season Si chiamerà Paradise Quindi vediamo un po' Quale sarà Il tema principale In teoria Il cromo Però vediamo un po' Voglio che tutti La smettiate Di guardare Le notizie Da tiktok E vi iscriviate Al mio canale Per avere Tutte le notizie Aggiornate E vere Ok Se parlo Di teorie Lo dico L'ho sempre detto Quindi Quando abbiamo parlato Anche della season Ritorno al passato L'ho detto Che era una teoria Comunque Scusatemi Un attimo L'interruzione Allora Sappiamo già Un sacco di cose Sulla prossima stagione Ne abbiamo già parlato Del pass battaglia Sappiamo veramente tanto Tra l'altro È già uscita Una skin Che al 99% Sarà ufficiale L'altro ieri è uscita Che è anche carina Ma magari in un altro video Ve lo farò vedere Però sappiamo già Che ci sarà Spider Gwen Vabbè Ne abbiamo già parlato Del pass battaglia Invece del tema Di tutte queste robe Adesso sappiamo Che ci sarà Che una cosa fondamentale Per la prossima stagione Sarà il cromo Vi ricordo che la prossima season Durrà due mesi e mezzo Quindi molto poco Veramente poco Quindi sarà una season breve Bello Perché almeno Anche se la season magari È un po' Una rottura di balle Passa subito Ok Magari se c'è qualche periodo Un po' così Un po' Moscio Passa tanto È veloce come season Meno male Quindi Le carte regola Questa season Ce le potrebbe anche avere Vediamo Vediamo un po' Però sono veramente Inepe Per questa roba Del cromo Ragazzi Vi giuro Tanto 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 Perché C'è Allora Mancano ancora Allora Quando sono usciti i teaser Mancavano Ancora Mancavano otto giorni Alla fine della stagione Ok Quando è uscito il teaser Quindi Già che Una settimana prima Della fine della stagione Facciano tutti questi teaser È interessante Comunque Fatemi sapere cosa ne pensate Iscrivetevi al canale Tevate la campanella Lasciate il like Commentate Quando vedete il video Con tutti i vostri amici Lascio il po' di forza Il codice creatore Alla 188 Grazie a tutti quelli che lo faranno Noi ci becchiamo In un prossimo video Bella